Perché se arriviamo a 3.000 like la prossima volta io faccio solo pistole 3.000 non li faccio da 7 mesi No ma io faccio solo pistole Tu puoi scegliere le armiche vuoi e io faccio solo le pistole Burloni è tornato il momento di riportare l'equipaggiamento Visto che l'avete richiesto a grandissima richiesta L'hanno chiesto a grandissima richiesta Con tanti like perché nello stesso episodio abbiamo chiesto i like E anche oggi vi chiediamo i like Superiamo i 1.500 per un nuovo video Marco nel buchino Marco Fabio mi ha fatto avere una shul Io intanto ho tipo tutto l'inventario che non si sa perché è pieno Perché stavo sistemando le cose Mi ha detto che praticamente abbiamo 10.000 euro e basta questa volta Non abbiamo di più Abbiamo solo 10.000 euro E la cosa migliore sai che cos'è? E che ci ha detto voi dovreste vedere il rampino Ma il rampino non lo potete prendere Marco vado a fare un shop Esatto Perché i fan mi ha detto Fabio che hanno scritto che non vorrebbero più il rampino Quindi noi ascoltiamo i loro consigli e vabbè ciao Vai vai tu fai va pendolo Per Messico come al solito Benvenuti ragazzi nell'equipaggiamento 1 euro 10.000 euro Vedo già qualcosa di viola È la cosa che mi ha tirato un botto l'attenzione Ma parto prima dalle armi Allora ma sono tutti assalti oggi Allora oggi abbiamo tutti gli assalti AK, M4, SCAR silenziato, la UG e lo SCAR normale La UG sarebbe il DMR su Fortnite Quello con il mirino, la COG Allora che cosa possiamo prendere? La AK fa 9 di danno e costa 4.500 Ed è il mio assalto preferito in realtà Poi abbiamo l'M4, 3.500 Lo SCAR silenziato 4.000 La UG 3.500 E lo SCAR 6.000 Secondo me Marco andrà a prendere lo SCAR conoscendolo Ma io siccome sono più furbo E so che la K è molto più forte Perché a livello di velocità è molto più forte questo qua dello SCAR Quindi io vado a prendermi proprio ad occhi chiusi ragazzi La K47 Quindi andiamo buttiamo la nostra Il 4.500 qua dentro E non voglio sapere di altre armi Ho 5.500 da sprecare qua Porca miseria che sfortuna Questo costa 6.000 Armatura più 6 dava ragazzi Porca miseria Qua cosa dovremmo dovuto prendere? Lo SCAR silenziato E ormai ho preso la K ragazzi Ho fatto la cavolata Secondo me bisognava prendere SCAR silenziato E l'armatura potente Qua forse dovevo ragionarmela un attimino meglio Vabbè A sto punto ragazzi ci prendiamo L'armatura di pozzolo e l'armatura viola Di terracotta viola Per forza Questo qui costa 3.000 Quindi dobbiamo mettere 6 pezzi di questo qua Quindi facciamo così E questo qui ne costa 2.000 Dobbiamo mettere 4 Ce ne avanzano anche 500 Che non servono assolutamente a niente Ragazzi è il mio turno Vediamo cosa ha combinato buon Fabio oggi per noi per lo shop Allora armi a 4.500 3.500 4.000 E 6.000 Lo SCAR Ma guardiamo un attimo l'armatura anche per capire un po' i costi Perché abbiamo 3.000 3.000 2.000 E 6.000 Abbiamo solo 10.000 Quindi 6.000 6.000 12.000 Non ne abbiamo questa volta Allora facciamo così Ci prendiamo Lo SCAR A 6K Ma si dai Prendiamoci lo SCAR Quindi Questi qua sono 5 Sono mille Mille dati Allora mille Poi Gli vediamo altri mille Sono 2.000 3.000 4.000 5.000 E 6.000 Ok Ieri abbiamo andato 6.000 Ora mi rimangono esattamente 4.000 euro Che vado a spendere Per l'armatura di terracotta viola Dai tanto mi rimangono mille Vanno più che più che bene Quindi armatura di terracotta viola E SCAR Ottimo Ma Marco avrà finito Si o no Guarda là che sta uscendo Lo vedo il tuo nome Esci Esci Hai preso la mia stessa armatura Abbiamo la stessa armatura Ma le armi diverse Hai preso lo SCAR Si ho preso lo SCAR Mamma mia ragazzi La chiappa 47 Quanto è forte Ho un problema Arrivo Scusatemi Dove metterlo Spawn point A qualche altra parte Perché erano Spawn point Che pirnazza Ricordo ragazzi Che il video sarà Quasi tutto uncut Nel senso che Cambiamo le scene ogni volta Perché altrimenti Mi avete detto Che non si capivano Determinati tagli Avete ragione Scusatemi Quindi niente Lasciate un like Commentate Se scrivete adesso Hashtag Foglia Metto il cuoricino a tutti Bravo Mi piaci Mi piaci Le munizioni Le munizioni Non le hai prese Ma come è possibile Che tu non sia morto Scusami Non mi hai colpito Neanche Una volta Ora mi hai colpito Per bene Ma com'è possibile Che non eri morto Ancora Via 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 Ragazzi C'è tanta ansia Nell'aria C'è tanta C'è molta ansia Ma rinnovate No Urca Avevo mezzo cuore Avevo Avevi Avevi Cavolo Quanto è bello ragazzi Senza Senza rampino È bellissimo È molto più divertente Secondo me Senza rampino Allora l'unica cosa è che abbiamo veramente poche armi Ma guarda che nuvolone c'è in cielo Anche tu lo vedi il nuvolone gigante Io non ho le nuvole attive purtroppo No Attivale le nuvole No non ho tempo Ho solo tempo di vincere questa battaglia Attivale le nuvole Dai Marco Attivale Aspetta Mi aspetti Va bene Allora Come si attivano le nuvole Details cloud Va bene L'ho messe Ma io ho messo normal in realtà Però ok Ok Io ho messo quello di default Ma dove sei? Io sono in alto Anche io Ma sei in alto in alto? Sì Sono molto in alto Dove sei? Non ti vedo Io ti giuro Sono altezza nuvola Altezza nuvola? O altezza nubola? Io sono Non so se tu le vedi Ma io sono dentro la nuvola Ma come è possibile? Guarda sono dentro le nuvole Se tu le metti a normal Io sono dentro la nuvola Che figata ragazzi Guarda che bello Allora perché sei più in alto di me magari Pure ti sto trollando E sono dietro di te Chi lo può sapere? Ma io lo vedo il tuo nome Marco Ah davvero? Eh sì Ah Ehm No 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 Deve ricaricare No 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 Eh sono morto forse Non ci credo Non ci credo Eh non riuscivo a ricaricare Non riuscivo a saltare Eh cosa devo fare? Niente male Niente male Innaggia dove sei tu adesso? Niente sto scappando Mi sto nascondendo Non sono più in alto Non mi piace stare Non mi piace starla in alto A me Madonna quanto danno Eh fa troppo danno lo scar No devo ricaricare Ok ti faccio il giro Ok Niente troppo forte Troppo forte lo scar ragazzi Ho sbagliato Eh ragazzi Guarda che la cappa secondo me No A parte che avevo preso anche l'armatura di pozzoli Non me l'hai usata ancora Non me l'hai usata ancora? Non me l'hai usata nel inventario proprio Ma no Mettitela adesso Eh mi sono dimenticato Scusami eh Cioè non è che dici Tu l'avevi pure tu hai preso la di pozzoli No 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 Io avevo mille euro in più così da utilizzare Ma non li ho utilizzati Eh non c'era niente Dopo una mille euro Scusami Va bene va bene Dove sei? Fatti vedere Mi sono nascosto Dietro di te No Devo ricaricare l'arma Via 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 Ma non è No ragazzi È infattibile È infattibile È infattibile Allora Sai dove ero? Ero nascosto qua Scappa Marco Scappa Non ti ho ancora preso Scusami Mai Non mi hai mai colpito Non abbiamo messo la rigenerazione Ecco perché Mannaccia Uh No Non è fattibile Ragazzi Non è fattibile per me Non è fattibile Ma scusami L'armatura in pozzo Quanto ha di armor? Due Due Non va bene No ma non va bene Proprio il fatto che A te entrano tutti i colpi Con lo star Questo non l'avevo preventivato Perché a livello di arma È molto più forte la k Eppure quando giocavamo in Fortnite in casa La k se ti ricordi Nelle Senza armature Uno contro uno Senza armatura Beh ma a me Guarda che toglie comunque Gli stessi punti di armatura No toglie 16 No 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 Eh devo ricaricare Ma guarda Non muori Ragazzi non muore Ma ti hai visto Quanto ti ho dovuto prendere? Io c'avevo da ricaricare Un botto le armi L'arma Non le armi L'arma Annaggia Dove sei? Dove? Dai Qua dove c'è della carne a terra Sono Ma l'ho buttata io Quella carne di peraltro Sono qua Ma dove? Ma hai tolto tutta la vita Ehm Ma io ti prendo almeno No Neanche io ti colpisco Mi hai colpito Aspetta che io ho anche il mirino Quello Olografico Esatto Ti ho tolto Il caschetto Occhio eh Non è più che un caschetto Ragazzi Ragazzi anche questa volta Ho sbagliato l'arma Cioè ma veramente Ma posso sbagliare l'arma sempre? Eh? Io non c'ho parole Marci Tu mi devi inquadrare Perché se arriviamo a 3000 like La prossima volta io faccio solo pistole 3000 non li faccio da sette mesi No ma Io faccio solo pistole Tu puoi scegliere le armi che vuoi Io faccio solo le pistole Va bene La accettiamo ragazzi Questa sfida Vediamo Vediamo Grazie.